la scheggia sliver ha una maschera addosso non quelle cavolate di carnevale o dei film scemi dove la gente scema si mette un ventaglio in faccia o degli scemi nei finti no 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 una maschera fatta di pezzi di metallo o così mi sembra perché non capisco bene tipo che deve essersela fatta da solo con cose di recupero c'è qualche bullone pezzi di colore diverso gli copre più di mezza faccia un occhio il naso la fronte la bocca età apparente dalla foto la mia ha una maschera addosso è un botto di gente che lo segue è un botto di video pubblicati anche un nome che come una frustata schia che cosa vuol dire già mi sta mezzo antipatico nella descrizione c'è scritto official account by schia nessun link facebook o instagram o che ne so iscritto il giorno 31 dicembre 1999 il che è impossibile ma sapevo che era anche impossibile craccare le info di queste cose qua comunque sono arrivata fino a qui tanto vale vedere un video vado sul primo play e che succede mi parte una pubblicità gomme da masticare color verde vomito mi trattengo a stento dal mollare tutto premo salta tutti gli annunci e dopo un istante compare lui ha la maschera della foto una maglietta nera maniche lunghe è in un posto non si capisce bene dove c'è una parete nera dietro di lui non si vede nient'altro anzi no sulla parete c'è una cosa tipo un punto bianco grande come una moneta sembra quasi un buco credo non capisco bene lui sta un po in silenzio poi parla con voce calda profondissima ha a che fare col test che ti fanno per vedere se è il virus da qualche parte nel mondo hanno scoperto un'altra cosa ovvero che se leggi bene i risultati non solo vedi se è il virus scopri anche quanto tempo ti resta scopri il giorno e l'ora esatte in cui morirai lo hanno testato verificato analizzato l'esame non sbaglia mai sia che muori di malattia sia che muori investito da una macchina l'esame non sbaglia mai prima era una cosa che facevano i ricchi poi è diventato normale e dopo ancora è diventato anormale non farlo da qualche parte sta diventando illegale non farlo te la stampano anche sulla carta di identità quella data come se fosse una carta di credito essere umano valido dal al adesso tutti abbiamo una data di scadenza senza quella non vai da nessuna parte una legge nuova che hanno votato tutti i buoni e cattivi adesso prima di darti un'istruzione un lavoro un mutuo qualunque cosa ti chiederanno quando morirai se vivi molto investono su di te se mori presto a far tuoi adesso prima di innamorarsi di te ti chiedono quanto tempo starai ancora in giro e così prima di darti la patente di farti pilotare un aereo di darti l'abbonamento a netflix morirai vecchio? bene morirai domani? ciao fa una pausa e scoppia a ridere come quando d'estate finisce di colpo un temporale e tu sei lì bagnato fradicio e senti l'aria calda che ti abbraccia ride e dice no vabbè questo me lo sono inventato poi si fa di nuovo serio e aggiunge ma qual è la vostra data di scadenza? fine del video resto lì a guardare lo schermo mortacci tua dico d'alta voce sono di roma quando mi nervosisco ogni tanto ne guardo un altro? dopo che adesso mi sta tornando quel problema già mi capita da un paio di settimane di colpo mi viene una specie di prurito alle scapole lì dove non riesco mai a grattarmi per questo tengo pronto sulla scrivania un righello da 60 centimetri che mi infilo nel collo della maglietta e lo uso per far passare il pizzicore il brutto è che quando va via poi mi arriva addosso un male pazzesco roba da piangere se fossi il tipo per me piangere è una perdita di tempo le lacrime me le tengo da parte per quando sarò vecchia strofino il righello sulla schiena ed ecco che il prurito passa e il male arriva come una scheggia di metallo che mi entra nella carne una scheggia a destra e una a sinistra roba da cadere per terra ululando la schiena mi si gonfia maledette vespe invisibili che hanno fatto il nido dentro il mio corpo per fortuna piano piano passa respiro mi tolgo la maglietta vado allo specchio e cerco di vedere la schiena è gonfia è rossa proprio brutta da vedere non mi va ma prendo lo stesso il cellulare facendo un po' la contorsionista per scattare una foto alla schiena rimetto la maglietta e mando la foto a mia mamma come le altre volte la mando anche ad andrea col caption male anche oggi la mamma non visualizza mi sta che sta lavorando andrea risponde subito dai che ti spuntano le tette anche dietro così trovi lavoro al circo la vorrei insultare ma stranamente non mi vengono in mente parole interessanti non riesco però a smettere di pensare a quel tipo con la maschera schia che vuol dire quel nome? su google non trovo nulla di utile metto schia significato niente metto schia traduzione viene fuori che schia è una parola greca e vuol dire ombra ombra perfetto perché intanto la sua domanda è lì che mi martella la mente qual è la mia data di scadenza? la mia data di scadenza?